Ben trovati, attendo ancora delle risposte, poi si parla di malasanità, di problemi, di costi della sanità, di posti letto. Quali sono le risposte? Beh, presumibilmente non le hanno ricevute né l'onorevole Zazzera né l'onorevole Vitali, quando chiesi loro l'analisi dei costi, che è il documento che ci fa comprendere anche quanto costa una garza nella provincia di Lecce, nella provincia di Brindisi, di Taranto, di Bari, di Foggia o di Milano e di Napoli e di Roma, ma noi siamo interessati al nostro Salento, quindi a Lecce, Brindisi e Taranto, ma nulla mi è giunto, perché attraverso l'analisi dei costi, vi ho già raccontato, si comprendono o potrebbero comprendersi i tanti sprechi. Credo che non siano latitanti verso di me l'onorevole Vitali del PDL, l'onorevole Zazzera dell'Italia dei Valori, ma credo che non siano riusciti ad ottenere questo benedetto documento di trasparenza dei costi della sanità. Cosa differente invece? Han fatto con Gedo e la Doma dai due consiglieri regionali ai quali avevo chiesto di prendere a cuore la situazione dell'IMID, ossia dell'ospedale di Campi, anzi del reparto IMID dell'ospedale di Campi, che si avvale soltanto di cinque stanze per i ricoveri che giungono da tutte le parti d'Italia con un piano superiore, sempre dell'ospedale di Campi, completamente vuoto. Per cui solo cinque camere per degenza, liste d'attesa non per scarsa professionalità degli operatori dell'IMID, ma perché vi è una cattiva organizzazione della sanità. Ma sapete una cosa invece? Oggi vi svelo, qualcuno di Vroi forse lo avrà anche letto perché è già uscita la notizia e io anche l'ho accennato in altre mie trasmissioni, che invece vi è uno straordinario ospedale dove? In Puglia, dove precisamente a Gioia del Colle. Quanti posti letto? Trecento, trecento posti letto con circa però una decina di ammalati. Come? Così pochi? Sì, sapete perché? Perché è un lebrosario. No, non sono impazzito, è un lebrosario, cioè è uno soccogno in cui si curano i malati di lebra. Lebra, la lebra ci fa pensare ai grandi poeti che raccontavano delle epidemie, ci fa pensare ad una malattia ormai smanita dalla nostra memoria. E invece a Gioia del Colle la curano. La curano con un ospedale, ripeto, con trecento posti e poi nei normali, non so comi, non vi è la possibilità di essere purtroppo ricoverati, con soli dieci malati di lebra che potrebbero essere curati in un qualsiasi ospedale, così come previsto dalla sanità nazionale, che costa alla nostra regione, anzi voglio essere preciso, che è costato alla nostra regione Puglia 35 milioni di Euro sino al settembre 2010, ossia meno di due mesi fa. Perché 35 milioni? Perché vi era un contributo per trecento posti, di cui duecento novanta non utilizzati, almeno questi sono i dati che ci giungono dallo stesso nosocomio di Gioia del Colle, sette milioni di Euro all'anno. L'assessore Fiore conosce molto bene questo nosocomio, anche se ultimamente ha mandato degli ispettori. Ci volete spiegare perché? Sono stati dati sette milioni di Euro all'anno in un ospedale che curerebbe la lebra, che avrebbe trecento posti letto e che avrebbe soltanto dieci malati e poi Campi e tanti altri nosocomi hanno carenza di posti letto e non hanno soldi per comprare i cerotti. A domani!